ragazzi sto facendo una zona nuova ho visto su un bel fregone nuovo i cervi in questo periodo combattono e fanno sti fregoni per allenarsi seguiamo questo stradello una zona impervia ci stanno dei stradelli qua questo è un vecchio ghiaccio ricovero dove si vediamo a riposare no vedo qualcosa non mi vuole sbagliare dovrebbe essere un ramo no no non è un ramo non mi sono sbagliato guarda 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 che bello è di quest'anno di quest'anno bello bellissimo non credevo trova qualcosa oggi molto bene pure oggi è andata bene